Papa Francesco ha suscitato un'ondata di critiche durante il suo viaggio in Indonesia, lasciando perplessi molti fedeli e figure di spicco della Chiesa. Ma cosa ha fatto per provocare tanta reazione? Alcuni fanno riferimento a gesti inaspettati che stanno scuotendo l'opinione pubblica cattolica. Si tratta di decisioni temporanee o siamo di fronte a un cambiamento più profondo e potenzialmente pericoloso? Il Pontefice è stato in visita in Indonesia, un viaggio che alcuni descrivono come fisicamente impegnativo a causa dell'età avanzata del Papa e della complessità del programma. Il viaggio ha due scopi principali, incontrare i leader cattolici locali e promuovere il dialogo ecumenico con i rappresentanti delle altre religioni. Il dialogo interreligioso rappresenta una parte centrale di questa missione, anche se ha sollevato qualche critica da parte di coloro che lo vedono come una potenziale minaccia, soprattutto se non viene ribadita con forza la centralità del cristianesimo. Durante il viaggio, Francesco ha già partecipato a diversi eventi, compresa una messa nella cattedrale di Giacarta, dove è stato accolto calorosamente dalla comunità cattolica locale. Ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato però l'incontro ecumenico, durante il quale il Papa ha condotto una preghiera senza fare il segno della croce né menzionare la Santissima Trinità o Gesù Cristo. Questo gesto è stato interpretato da alcuni commentatori cattolici come un'implicita negazione di Cristo, sollevando timori per un possibile allontanamento dalle manifestazioni tradizionali della fede cattolica. Un riferimento rilevante può essere trovato nel Vangelo di Matteo 10, 31-38, dove si sottolinea l'importanza di testimoniare pubblicamente la propria fede. «Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli». Questo passaggio evidenzia quanto sia cruciale proclamare apertamente la propria fede, un punto che alcuni ritengono sia stato trascurato nell'ambito del dialogo ecumenico intrapreso dal Papa in Indonesia. L'omissione di segni e riferimenti tradizionali è stata vista da molti come un tentativo di favorire un terreno comune tra le religioni, in un contesto più neutrale. Tuttavia, tale approccio ha generato reazioni discordanti all'interno della Chiesa. Alcuni cattolici tradizionalisti si sono detti preoccupati, interpretando queste azioni come un'apertura eccessiva al relativismo religioso. A loro avviso, affermare che tutte le religioni adorano lo stesso Dio, senza riconoscere le peculiarità del cristianesimo, in particolare il ruolo di Gesù come Salvatore, rappresenta un pericolo per la fede cattolica. Non a caso figure come il vescovo Atanasius Schneider hanno spesso criticato l'idea che tutte le religioni adorino lo stesso Dio, evidenziando le differenze dottrinali profonde tra di esse. Nel suo discorso a vescovi, sacerdoti e religiosi, Papa Francesco ha insistito sull'importanza di promuovere l'apertura e l'inclusione, valori che considera fondamentali, in un contesto culturalmente ed etnicamente complesso come quello indonesiano. Ha inoltre ribadito il ruolo della Chiesa nel favorire l'unità e la pace in un paese caratterizzato dalla convivenza di diverse religioni e culture. Il messaggio di Francesco ha posto grande enfasi sull'inclusione e la tolleranza, soprattutto nei suoi interventi rivolti ai leader civili e religiosi. Ha elogiato l'Indonesia per la sua capacità di mantenere l'armonia in una popolazione così diversificata, presentandola come un esempio di convivenza pacifica tra diverse fedi religiose. Tuttavia, ha anche messo in guardia contro i rischi dell'estremismo e dell'intolleranza, esortando le autorità indonesiane a proseguire nella promozione della tolleranza religiosa e nella lotta contro le derive estremiste. Questa attenzione alla collaborazione interreligiosa riflette la visione globale di Papa Francesco, che ha sostenuto sin dall'inizio del suo pontificato. Pausa. Il movimento impegnato nella promozione dell'educazione e della cultura della pace rispecchia l'impegno del Papa nel coinvolgere i giovani e favorire il dialogo tra culture differenti. Francesco ha sottolineato come i giovani abbiano un ruolo centrale nella costruzione di un mondo più giusto e solidale. Inoltre, ha evidenziato l'importanza cruciale della formazione delle future generazioni. Parallelamente, ha lanciato un appello ai leader della Chiesa locale, ricordando loro il compito essenziale della Chiesa nel sostenere i deboli, gli emarginati e coloro che si trovano ai margini della società. In un paese in cui i cattolici rappresentano una minoranza, Papa Francesco ha ribadito l'importanza per vescovi e sacerdoti di testimoniare la carità e la misericordia, specialmente verso coloro che soffrono. La missione della Chiesa, secondo Francesco, è di andare incontro a chi si trova ai margini, offrendo non solo assistenza materiale ma anche speranza spirituale. Ha esortato le autorità civili e religiose a collaborare per creare una società più giusta, in cui tutti abbiano le stesse opportunità. Uno dei temi su cui ha insistito è la necessità di promuovere la trasparenza e combattere la corruzione, vista come uno degli ostacoli principali allo sviluppo di una società equa. Bambi Sise, pausa. Un argomento meno discusso ma altrettanto significativo durante il viaggio in Indonesia è stato il rapporto tra religione e ambiente. Durante un incontro con leader religiosi e politici, Francesco ha riaffermato l'importanza di prendersi cura della casa comune, un concetto che aveva già trattato nell'enciclica Laudato Si. In un paese come l'Indonesia, colpito da gravi problemi di deforestazione e inquinamento, l'appello del Papa alla tutela dell'ambiente assume una valenza particolare. Francesco ha sottolineato come tutte le religioni dovrebbero unirsi per affrontare la crisi climatica, poiché i suoi effetti più gravi ricadono sui poveri e i vulnerabili. Ha quindi invitato i leader religiosi a promuovere una cultura di sostenibilità e rispetto della natura, ricordando che la cura del creato è una responsabilità morale condivisa. Questo messaggio si allinea strettamente alla visione di Francesco sulla giustizia sociale. Proteggere l'ambiente significa anche garantire che le risorse naturali siano gestite in modo equo e sostenibile per il bene di tutti, soprattutto delle generazioni future. Tuttavia, dal viaggio in Indonesia emerge anche un'altra riflessione legata ai temi promossi dal Papa inclusione, pace interreligiosa e sostenibilità ambientale. Si tratta certamente di valori importanti, ispirati da buone intenzioni, ma sorge una domanda. Dov'è la proclamazione della centralità di Cristo? Alcuni osservatori ritengono che la direzione presa da Francesco non sia casuale. È parte di un processo più ampio di decentralizzazione del Papato e della Chiesa, un tentativo di promuovere un'agenda universale che sembra meno radicata nei principi tradizionali del cristianesimo. La questione che molti si pongono è se questo approccio, per quanto benintenzionato, possa portare la Chiesa a sacrificare la sua missione originaria in favore di una maggiore accettazione nel mondo moderno. Questa apertura, anche se nata da intenzioni nobili, è davvero un bene per la Chiesa? O sta manipolando la sua identità per renderla più appetibile agli occhi del mondo? La sfida è trovare un equilibrio tra dialogo e fedeltà alla missione originaria della Chiesa. Se ti è piaciuto il video, commenta Amen. Che Dio ti benedica.